Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti dal vostro Dark Chaos 92 Oggi siamo qui per registrare questo nuovo video della guida di Fortnite In questo caso stiamo parlando di segui la mappa del tesoro trovata a condotti confusi Adesso vi faccio dire direttamente il punto, noi ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi Eccoci qua ragazzuoli, il punto esatto dove si trova appunto la stella è precisamente qui In questa montagna, al lato di Borgo Bislacco Ecco purtroppo ragazzi non capisco il perché, dopo questo aggiornamento ci sta un po' di freeze, di lag Non riesco a capire il motivo, comunque atterriamo subitissimamente lì per prendere la nostra finalmente stella E niente, tanta roba, GG ragazzi, presa la stella, alla prossima raga, bella Un'altra cosa ragazzi, mi raccomando di iscrivervi al canale e attivare la campanella Per non perdervi le prossime guide di Fortnite, bella ragazzi Ciao